Finora a dover esibire il Green Pass erano solo magistrati e personale degli uffici giudiziari, ma l'ultimo decreto del Governo ha esteso l'obbligo agli avvocati, abituali frequentatori dei palazzi di giustizia, ma anche in questo caso le polemiche non mancano. Pur comprendendo la necessità di rafforzare le misure volte a rallentare la diffusione dell'epidemia in una nuova fase di recrudescenza, sono davvero troppo pochi i giorni intercorsi tra il decreto che ha introdotto l'obbligo di Green Pass per accedere ai tribunali anche per gli avvocati e la sua entrata in vigore. Considerate le difficoltà a eseguire il tampone negli ultimi giorni, gli assistiti degli avvocati che non fossero riusciti ad ottenere il Green Pass in così poco tempo rischiano, a partire da oggi, di essere privati del proprio diritto alla difesa. L'assenza per mancanza di Green Pass, infatti, non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento e quanto dichiara il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefani, che, al contrario di quanto accaduto a livello locale tra Procura Generale e Avvocatura Barese, rimarca l'assenza di confronto tra il Governo e l'Avvocatura a livello nazionale. Avremmo chiesto maggiore chiarezza nella scrittura della norma e qualche giorno in più per adeguarci alla stessa, che comunque è accolta con favore dalla gran parte degli avvocati, già dotata del Super Green Pass. Inoltre, secondo Stefani, vi sarebbe una contraddizione nel dettato della norma, che consente a parti processuali e testimoni l'accesso ai tribunali pur in assenza di Green Pass. Se l'obiettivo è quello di ridurre al minimo la presenza del virus all'interno delle aule di giustizia, conclude, avremmo suggerito di estendere l'obbligo di Green Pass a tutte le persone che lo frequentano, nessuno escluso.